Dopo aver seguito i corsi di recitazione presso la scuola di Piero Sharoff, inizia a recitare giovanissima nella compagnia di Salvo Randone nel dramma Corruzione al Palazzo, di Giustizia, per proseguire in altri lavori teatrali diretta da vari registi tra cui Luciano Salce, Lucchino Visconti e Giorgio De Lullo. Sino a formare una propria compagnia associandosi con Vivi Gioi e Renzo Giovampietro. Nel 1953 l'inizio della sua carriera di attrice cinematografica, con la regia di Gaetano Amata, che la sceglie per una parte nella pellicola La figlia del forzato, divenne poi una delle attrici preferite da Fellini in vari suoi film. Anche la televisione diverrà un luogo di lavoro, che la Mainardi frequenterà, sia come interprete di commedie, sia prendendo parte a sceneggiati e film, sino al 1994 girerà quasi 80 film.